In bici da Londra a Sulmona e l'impresa compiuta da Emanuele Amato, 33 anni, partito dall'Inghilterra lo scorso 28 agosto. Sono stati giorni intensi per affrontare l'entusiasmante percorso di 2274 chilometri. Dopo 17 giorni, oggi 13 settembre, il rientro nel capologo Peligno. Prima un giro nel centro cittadino e poi l'accoglienza nella sua abitazione nella frazione Marani. Oddio, posso dire che è chiuso il mio giro? Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta! Ad attenderlo parenti ed amici a corsi numerosi per abbracciare il loro eroe. Emanuele ha raccontato la sua stupenda avventura. Come mai ha deciso di affrontare un viaggio così lungo? Perché sono pazzo innanzitutto e tutti lo sanno. Nessuno mi ha seguito proprio perché sono pazzo. È nata per la passione della bici e la gran voglia di viaggiare che non mi ha mai fermato e mi ha sempre spinto ad andare avanti. Sono arrivato qui più che altro per la forza mentale, più che quella fisica. C'è stata una preparazione dietro che mi ha aiutato, ma se non avessi avuto la forza mentale di arrivare ogni giorno alla meta prestabilita probabilmente non starei qui adesso, in questi giorni. Come sono state le tue giornate e dove hai pernottato? Ho pernottato in tenda maggiormente. Mi sono ritrovato a Bruxelles, stanco morto la sera, non avevo un campeggio a disposizione vicino, quindi ho sfruttato l'albergo. Ho conosciuto tantissime persone interessanti in questo viaggio, che mi hanno dato veramente una spinta morale. Entravo dentro i villaggi, dentro le città, in questa bici piena di borse e subito le domande erano da dove vieni e dove arrivi. Dire che partivo da Londra e arrivavo in Abruzzo era un modo per attaccare subito bottone con le persone e tutti quanti mi davano veramente un sostegno morale, quindi sono state veramente fantastiche. Ogni giorno mettevo una foto su Facebook e vedevo che i like, cioè mi piace, aumentavano sempre di più e quindi vedevo che c'era collaborazione e partecipazione in tutto quello che facevo. Era un modo per tenermi in contatto con tutti gli amici. I contatti con la gente e la scoperta di luoghi affascinanti fanno parte dei bei ricordi che hanno caratterizzato il viaggio in bicicletta di 17 giorni, di cui uno soltanto con la pioggia. Il ricordo più bello è stato la prima pedalata, lo so, è scontato dirlo, però la prima pedalata allontanarmi da quel villaggio e non sapere i chilometri che andavo facendo, le città che andavo incontrando, quello è stata la cosa più bella. L'esperienza più brutta è stata costeggiare il Reno, è bruttissimo. Guarda, lo so, è brutto dirlo, però una strada piatta, lunga, 80 chilometri, riuscivo a vedere la fine ed è stata molto noiosa perché era piatta. Emanuele Amato racconta inoltre di avere ancora tanta energia che lo avrebbe portato anche a fare più chilometri. Adesso si sposa uno dei miei fratelli perché lo considero un fratello e se non ci fosse stato questo impegno probabilmente sarei sceso giù in Sicilia perché c'ho ancora un po' di forza. Senti, adesso appuntamento alla prossima avventura o no? Ma io me lo auguro, se l'anno prossimo riesco a maturare cosa che ho fatto quest'anno, delle lunghe ferie, il prossimo ve lo farò sapere. Che ho fatto?